Il sindaco di Bonn Maurizio Bevilacqua con il supporto unanime del Consiglio Comunale ha voluto cambiare nome alla festa civica che si svolge in agosto, conosciuta come Benjamin Von Day. Il giorno sarà intitolato in onore di John Graves Simco, il primo governatore dell'allora Alto Canada. A proposito di questo delicato argomento e oggetto di discussione, abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Bonn Maurizio Bevilacqua. Ieri ho presentato una mozione che è stata accolta a livello molto positivo dai miei colleghi. Tutti hanno sostenuto questa mozione che parla proprio di essere fieri della nostra città e abbiamo anche cambiato il nome della nostra festa da Benjamin Von a Simco. Simco è una persona che ovviamente ha lavorato contro il razzismo, contro la schiavitù e allora è molto importante che noi proiettiamo anche in questa maniera molto chiara che siamo una città multiculturale che è con molto rispetto per la popolazione. Noi siamo una città essenzialmente di migranti che provengono da tutte le parti del mondo e credo che questa festa, con un nuovo nome, rappresenta anche proprio la nostra identità. Benjamin Von non ha costruito la nostra città. La nostra città è stata costruita da persone che provengono da tutto il mondo e quello è proprio lo spirito della nostra città. Io da sindaco sono molto fiero di tutto ciò che noi abbiamo fatto per creare un modello proprio vero e proprio, un modello democratico, aperto che dà molta fiducia a noi come cittadini. Ieri è stato svelato alla comunità durante una cerimonia ufficiale il nome del nuovo ospedale di Von. La nuova struttura porterà il nome della famiglia Cortellucci che ha donato una somma incredibile di 40 milioni di dollari per l'ospedale. La generosità della famiglia Cortellucci è un esempio di cosa si può realizzare se si lavora insieme, ha dichiarato il sindaco Maurizio Bevilacqua. Il nuovo ospedale dovrebbe aprire nel 2021. La nuova Cortellucci-Vaugh è il primo ospedale in la regione di New York in 30 anni e il primo ospedale in la città di Von. Questo state-of-the-art facility ha 350 nuovi bambini e top-notch staff che faranno quali care per i pazienti in questa comunità. E anche il primo ospedale in tutto il canale. L'Ontario è stato orgoglioso di chiedere la famiglia McKenzie Health, la famiglia Cortellucci e i partenari di ogni settore per supportare questo progetto importante. Abbiamo dimostrato che la grande capacità della nostra città di avere uno spirito di grande cuore e grande generosità e ovviamente abbiamo chiamato questo nuovo ospedale Cortellucci-Vaughn Hospital. È un grande premio per la nostra comunità italo-canadese, è una famiglia che DAP ha avuto ovviamente grandi successi tramite, hanno lavorato molto, hanno lavorato sodo, però il loro cuore è un cuore grandissimo e sono molto lieto che l'ospedale ha premiato questa famiglia con il nome, il nome del Cortellucci-Vaughn Hospital. Riflette proprio tutto ciò che la nostra città è, una città aperta, una città generosa, una città dove gli immigranti, se si danno da fare, se lavorano sodo, se si dedicano, possono avere del grande successo, è più importante di ciò. E anche il fatto che bisogna dare a coloro che sono bisognosi e la famiglia Cortellucci ha dimostrato sempre questo grande spirito di generosità. I'm so proud of the Vaughn community, the generosity of families, especially the Cortellucci's, who've given so much of themselves to the renaming of this hospital. This hospital has been a long time coming, and I'm proud that the Premier, Doug Ford, and the Deputy Premier, the Minister of Health, Christine Elliott, were there, personally, to ensure that they can help unveil the new sign, to thank the family, and to celebrate the progress we're making. We're going to be building a state-of-the-art hospital, hundreds of new beds, with a stroke centre, an additional capacity that really focuses on improving the quality of life of parents, of seniors, and of kids. So this is an important project, and it shows momentum for our city. I'm looking forward, as your Member of Provincial Parliament, and as Minister, to open that hospital in the coming months.